Torna a far discutere la norma sulla prescrizione dei farmaci in base al principio attivo introdotta con il decreto legge sulla spending review approvato lo scorso mese di agosto. Il decreto ha introdotto l'obbligo per il medico di indicare in ricetta rossa il nome del principio attivo invece del nome commerciale del farmaco, obbligo che in teoria non si dovrebbe applicare nel caso di malati cronici già precedentemente in cura. Nel dettaglio la legge stabilisce che il medico che curi un paziente per la prima volta per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali e equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Nel corso dell'esame del decreto sviluppo a Palazzo Madama sono stati presentati vari emendamenti bipartisan tesi a sopprimere la norma o a riscriverla per trasformare da obbligatoria in facoltativa l'indicazione del principio attivo contenuto nel farmaco prescritto dal medico. L'intenzione è quella di lasciarsi alle spalle una norma che così formulata ha di fatto spostato il potere decisionale dal medico al farmacista, generando disorientamento tra i pazienti e in particolare gli anziani esposti negli ultimi mesi ai rischi di uno zapping farmacologico continuo. Non sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché secondo me è il medico che deve prescrivere il farmaco, il principio attivo, il suo dosaggio, il farmacista può soltanto consegnare e indirizzare secondo me il paziente. Trovo un po' forzata la cosa. Questo è un campo ancora da verificare perché mi lascia molto perplesso il fatto che il generico può avere un'efficacia terapeutica del più o meno 20%. Questo mi può creare qualche perplessità. Io preferirei un euro in più e una tranquillità in più. Poco d'accordo. Perché la ricerca e l'esperienza delle case farmaceutiche e la serietà delle case farmaceutiche si scontra un po' contro quello che i generici spesso hanno come ricerca e come ricerca clinica nei confronti dell'efficacia del farmaco.